Musica Benvenuti a una nuova puntata di Varese e Rosa e diamo il benvenuto alla nostra ospite di oggi, Patrizia Rossetti, ben ritrovata. Grazie, mi fa molto piacere essere qua con voi e con te specialmente, visto che da anni ci siamo sempre visti e riguardo sempre appunto ai libri pubblicati. Certo, infatti siamo qui proprio per parlare di un tuo nuovo lavoro, una nuova pubblicazione che appunto sposa perfettamente la tua più grande passione che è quella per la cucina. Infatti Tra le tue mani hai questo nuovo libro, Osteria Patrizia, sono ben 23 ricette con 23 racconti, quindi insomma giusto per spiegare ai nostri telespettatori, 23 autori hanno preparato 23 racconti e per ognuno di questi racconti tu hai ideato una ricetta, vero? Sì, è vero, infatti ho legato diciamo nel vari racconti, vari gialli, alcuni luoghi, fra l'altro molti vicino a noi, appunto i luoghi che hanno citato nel vari racconti o comunque gialli o noir che possa essere, per appunto studiare la zona per quanto riguarda quello per poter ricercare una ricetta antica che poi è anche commestibile tuttora perché eventualmente qualche ingrediente si è modificata un attimo. Certo, certo, diciamo hai preso le antiche ricette e le hai un po' attualizzate. Sì, però devo dire che tutto sommato sono tutti prodotti locali anche, questo bisogna sottolinearlo, dunque che già da anni ci sono fra l'altro. Certo, facciamo un passo indietro perché questa è una tua grande passione, cioè non soltanto la cucina ma anche quella di andare proprio a ripescare delle antiche ricette per riproporle al tuo pubblico. Infatti, oltretutto metto sempre anche la storia eventualmente del luogo o comunque agganciandomi a qualsiasi altra cosa, per esempio si parla di Morcote che è tra la Svizzera e l'Italia, c'è questo bel castello, faccio un esempio, questo bel castello dove all'epoca si aveva una tenuta esterna di vigneti. Si sono ripresi ancora adesso, c'era il proprietario che coltiva appunto questi vigneti per poter avere questo vino, che è il Merlot o comunque il Barbera, della zona diciamo, e producendo quella cosa ho messo una ricetta, gli spaghetti ubriachi. Dunque, c'è tutto un discorso di questo tipo, insomma, legato se non al prodotto locale ma oppure alla zona dove ci sono questi prodotti particolari locali. Certo, sicuramente è stato un lavoro impegnativo per gli autori che hanno dovuto ovviamente inventare questi racconti, ma anche un lavoro impegnativo per te che poi per ogni racconto hai dovuto ricercare e inventare in qualche modo una ricetta, vero? Sì, sì, infatti, perché molti magari non c'era l'ingrediente particolare, per esempio un signore ha citato due o tre paesi qua nella zona e allora ho scelto gli asparagi di Cantello, era una cosa, ecco la sua ricetta, altri invece hanno parlato di altre cose, allora mi sono dovuta agganciare a qualsiasi cosa per poter poi parlare di cucina. Per esempio, Chiara Zangarini, adesso faccio questo esempio per capire, ha parlato di smartphone, questo bel racconto che parla appunto di questi smartphone dall'inizio fino a queste attuali, infatti, all'evoluzione, e non sapevo cosa fare perché se si parla di smartphone cosa puoi fare? E allora mi sono legata alla storia del telefono, la storia del telefono in modo da poter arrivare, spiegando anche, non tutti lo sanno, che finalmente poi Meucci è stato riconosciuto l'inventore, agganciandomi alle cucine attuali, attuali, elettriche, dove da lavoro tu schiacci questo bottone, parte la cucina nel forno, oppure su quello che è, per poter poi arrivare a casa e continuare la cottura. Dunque ho legato anche questo. E questo quindi significa proprio che hai dovuto darti da fare per cercare sempre un aggancio con infatti vari racconti. Diciamo che l'unico filo conduttore reale tra questi racconti è proprio la cucina, perché gli autori si sono potuti sbizzarrire, tu infatti prima accenavi, si passa da un genere all'altro, quindi non mi è un vero filo conduttore, l'unico legame sono proprio le tue ricette. Sì, comunque sia, gli autori sono stati bravissimi, devo ringraziarli anche perché loro hanno avuto, diciamo, mi hanno consentito di fare questo lavoro e perché questa, diciamo, l'introito di questa antologia andrà a questa associazione di anoressia e bulimia, cosa che purtroppo oggi è ancora, diciamo, così messa, fra virgolette, da parte perché non ci sono delle strutture ospedaliere che aiutino anche, oltre che a livello di, diciamo, sostegno morale, di cure, chiamalo come vuoi, ma anche il sistema finanziario, perché purtroppo, non essendo riconosciuta come malattia, purtroppo si arriva a questi punti che la gente non ha la possibilità di poter curare i figli, se non hanno la possibilità di avere dei soldi, insomma, un contributo dovuto, e a volte non li portano neanche a farsi curare perché non hanno questa possibilità. Dunque abbiamo pensato questa cosa proprio nella goccia, nel mare, però voglio dire, ci proviamo, no? Certo, infatti avete proprio scelto di devolvere questi fondi ad ABA, che è questa associazione per bulimia e anoressia, un'associazione che ha sede a Milano, l'obiettivo è proprio quello di supportare economicamente queste persone, come dicevi tu, sia per quanto riguarda le cure mediche, sia per quanto riguarda il supporto fisico e psicologico. Spesso infatti queste malattie partono proprio dall'aspetto psicologico, quindi è proprio importante anche nella cura ripartire da lì. Io sto parlando di questo perché, devo dirlo, purtroppo ho avuto l'esperienza di mia figlia, che purtroppo è mancata appunto per questi problemi, e allora li ho toccati di persona, toccandoli di persona posso capire le altre famiglie come si possono, diciamo, sentire, infatti. E devo dire che era un mio pallino di dover fare questo libro, un libro comunque, e grazie a Dio con la partecipazione di altri autori che veramente sono stati molto, come si può dire, collaborativi, dedicati a dover accettare questa cosa, proprio per questo motivo. Certo, diciamo che poi non a caso si parla proprio di cucina, quindi in qualche modo si vuole parlare in maniera positiva di cucina, di cibo, di alimentazione, cercando anche di appunto rieducare, Dramatizzare e anche rieducare queste persone ad avere un rapporto più sano con il cibo, vero? Eh sì, purtroppo c'è un controsenso in questo mio desiderio, perché era una promessa che avevo fatto a me stessa di poter fare questa cosa, ci sono riuscita, questo è importante. È certo, è certo, assolutamente, ovviamente anche un buon traguardo, dato che, ricordiamo le nostre telespettatorie, hai scritto più libri dedicati alla cucina, questa è una passione che veramente tu coltivi da tanti anni, quindi hai anche una conoscenza approfondita di quelle che sono le ricette del territorio. Infatti, in questo caso, proprio del territorio, perché diciamo che gli autori, la maggior parte, si trovano in Lombardia, ce n'è qualcuno nelle Marche o comunque nelle zone qua vicine e vorrà dire che l'anno prossimo avremo comunque l'idea di fare questa antologia, un'altra antologia, che è stata ideata dal professor Marelli, che è il presidente di Borgo Antico di Castiglione Olona, che fra l'altro sono nel direttivo e di conseguenza mi fa piacere solo per questo motivo. È stato proprio un mio pallino di fare questa cosa. Certo, diciamo quindi che non ci si ferma, stai già pensando ai progetti dell'anno prossimo. Sì, infatti stiamo già pensando ai progetti dell'anno prossimo e spero di riuscire naturalmente, poi penseremo a un'altra associazione perché vediamo un attimino come, diciamo, disporre le cose, però voglio dire, il passo l'abbiamo fatto. Assolutamente, certo. Ed appunto parliamo dell'anno nuovo e nell'anno nuovo ci sono già in programma anche delle date importanti che vi consentiranno di presentare questo volume. Citiamo la prima, l'8 gennaio sarete in Piemonte, a Lesa, a Biblioteca, proprio per rappresentare per la prima volta ufficialmente questo nuovo volume. Sì, purtroppo ci sono stati un po' di problemi riguardo appunto al libro, non tanto perché, per quanto riguarda purtroppo la pandemia, che il materiale non arrivava. Certo, la carenza di materie prime che purtroppo ha colpito anche il settore della carta. Infatti, infatti. E a questo punto siamo arrivati quasi a Natale, spero che le persone apprezzino questo libro e che lo acquistino perché va devoluto a questa associazione molto importante che molti non considerano ancora. Io dico così, io parlo di vent'anni fa. Certo, sicuramente se ne parla molto, però in questi casi non si fa mai abbastanza, quindi avere qualche risorsa in più da destinare al supporto psicologico e alle cure di queste persone che poi molto spesso sono anche tanto giovani è veramente importante. Sì, purtroppo, non ci sono solo adesso le ragazze, ma anche i ragazzi e le persone adulte. Sì, 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 certo, colpisce tutte le età, molto spesso la fase adolescenziale in cui si è più fragile. Certo, certo. Si cade un po' di più in questa tentazione. Infatti. Certo, ovviamente dicevamo la presentazione in Piemonte a gennaio, ma per chi volesse ad esempio acquistare questo libro ora per un pensiero, quindi lo trova in tutte le librerie, eventualmente su Amazon, non li può trovare. Io preferisco le librerie, devo dire, però tutto sommato se uno non vuole andare in librerie lo trova su tutti i distributori che riguardano appunto gli acquisti. Certo, certo. Bene, Patrizia, io ti ringrazio molto, ovviamente in bocca al lupo a te e a tutti i tuoi compagni di avventura per questo libro, quindi per Ossaria Patrizia e a questo punto invitiamo i nostri telespettatori sia a venire a conoscervi di persona l'ESA l'8 di gennaio, ossia li invitiamo appunto a cercare questo volume online per poterlo acquistare. Intanto grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie a tutti voi e comprate questo libro. Certo, grazie, ovviamente grazie anche a voi da casa e come sempre alla prossima puntata di Varese in Rosa. Arrivederci. Grazie a tutti.